Oltre qui in giulai, o leggi in genio, voglio essere a te Cantava riva la libertà, ma ricevete una lettera La sua chitarra mi regalò un ricamato in america La sua chitarra mi regalò un ricamato in america La sua chitarra mi regalò un ricamato in america Qu'è un ragazzo? C'era un ragazzo, che con me Amade il mondo PRESTI A fare la guerra PRESTI A fare la guerra non via Cойтицы di Mereda La cultura Russopo la mamma, uno strumento che sembra che la, la stessa nota, la calzata, non ha più amici, non ha più fai, e la gente cadere su, e il suo paese non tornerà, adesso è il mondo ritorno del adesso eccliesi, non è più fai, e il suo paese non tornerà, adesso è il Grazie a tutti! Grazie a tutti!